Grazie a voi, ciao a tutti, un saluto particolare a tutti i bambini presenti in piazza che vedo che sono tantissimi e ovviamente un saluto a tutti questi gruppi folcloristici del Carnevale. Pensate, ce ne sono 40 quest'anno che arrivano da tutta Italia. Per la prima volta ci sono 40 gruppi che hanno voluto partecipare al Carnevale novarese e quindi un grande benvenuto da parte della città a tutti voi. Grazie anche all'associazione Re Biscottino che come tutti gli anni organizza il Carnevale a Novara, sta diventando sempre più importante perché poi l'associazione durante l'anno si sposta anche in altre parti d'Italia perché ha creato questa bellissima rete tra gruppi folcloristici e quindi porta il nome e l'immagine della città di Novara anche in altre parti. Oltre a tutto quello che fanno durante l'anno, perché durante l'anno poi loro interdeccano nelle case di riposo, negli asili, nelle scuole per fare attività aggregativa, quindi grazie. Però non parlo oltre e faccio la cosa che deve fare il sindaco Carnevale, ovvero consegnare le chiavi della città a Re Biscottino. Da questo momento in poi sono tutti i cavoli suoi. Sire, ecco le chiavi della città, sono a Re Biscottino, buon Carnevale a tutti!